buongiorno a tutti dunque eccoci qui con una nuova rubrica della biblioteca di area umanistica di siena e gentilmente mi hanno voluto affidare è una rubrica che si sviluppa dalla precedente rubrica generale in due minuti in cui ciascuno di noi presentava un libro che gli fosse caro ora gli organizzatori mi hanno chiesto di aprire uno spazio specifico da dedicare a un settore che mi fosse caro e io ho naturalmente pensato alla poesia e quindi questa rubrica si chiamerà foto di poesia con un sottotitolo voci di scrittori del nostro tempo che vuole spiegare meglio di che cosa si tratti naturalmente mi occuperò soprattutto di libri di poesia questo genere così tanto trascurato diciamo se voi prendete una rubrica di pseudo cultura libraria come billy del tg1 vedrete che non vi figura mai assolutamente mai un libro di poesia mentre spesseggiano quelli di fumetti ma vorrei intendere la poesia in senso un po più lato e cioè come quella categoria dello spirito diciamo così che anima di sé tutte le escursioni artistiche più significative quindi non escludo di occuparmi anche i libri in prosa forse anche di cose relative alle arti figurative alla musica chissà tutto ciò che la poesia possa abbracciare in un senso più generale spero di non avere ad annoiarvi e vi do appuntamento per le prossime puntate grazie e un caro saluto a tutti il vostro Alessandro